Allora Alessia, devi colpire la palla di golf dall'altra parte verso il buco. Ah, Giussi, non sono brava a colpire la palla di golf. Alessia, disegno io e... è facilissimo. Brava, grazie. Ora tocca a te, Marco. Ok. Bravo, grazie. Ragazzi, ora possiamo prendere la macchina di golf. Certamente. Andiamo. Grazie. 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 Grazie.